Salve a tutti ragazzi, qui Francesco Guarino e andiamo immediatamente con la carta della settimana e per i prossimi giorni è con noi il 10 di bastoni. Un arcano che può indicare il fatto che siamo debilitati, stanchi, magari qualcuno tra di noi l'ha pure raggiunto il suo obiettivo, però sotto sotto ha impiegato così tante energie che ora si sente completamente scarico. Magari sta straiato sul divano e inizia a dire ma ne vale, o ne valsa davvero la pena? La risposta è sì, quello che devi fare ora è non cadere sotto il peso delle responsabilità, degli obblighi o di quello che devi fare. Ricordati che il 10 è la fine di un ciclo, quindi inizia a delegare, togliere compiti che non ti servono più e rimani focalizzato su quello che devi fare. Ora, queste sono le energie più grandi e generali della settimana per tutta la community di scuola TDM, ma cerchiamo di capire anche come ogni segno zodiacale può ricevere il suo arcano guida. Prima di procedere ti ricordo di mettere like a questo video, di iscriverti al canale per non perderti nemmeno una botta tarologica e soprattutto per ampliare questa community. Questa settimana comincio con la Vergine e per te ho estratto il 7 di spade. Allora, il consiglio è discrezione. Se hai una strategia, mantieni la segreta. Se devi dire la tua idea, non farlo. Anzi, addirittura, devi stare molto attenta, mia cara Vergine, alle trappole che possono emergere lungo il tuo percorso. Quindi, ripeto, discrezione e astuzia. Ariete, per te ho estratto la giustizia. È proprio come suggerisce l'energia più basica di questa carta, verità, dedizione, ma soprattutto equilibrio, devono essere i tuoi alleati per i prossimi giorni. Non cedere a ricatti e tu stesso non ricattare. Non prendere scorciatoie e fai le cose come devono essere fatte. Ah, se devi decidere qualcosa, mi raccomando, sempre con la testa. Forse è opportuno sacrificare un po' di vorrei fare questo a favore di devo fare questo. Bilancia, 10 di coppe. Perché non dai il via delle belle rimpatriate, cara Bilancia? Puoi invitare la tua famiglia, puoi invitare i tuoi amici, puoi invitare quel gruppo storico. È una settimana ideale per te per ritrovarti attorno a un tavolo, bere qualcosa, scherzare e ridere. Toro, per te ho estratto il re di coppe. E forse dovresti utilizzare la tua abilità emotiva per dirigere te stesso, quindi quelle che sono le tue decisioni, ma anche gli altri. Il che può significare ascoltare un amico, dare un consiglio che qualcuno sta cercando, o, forse è un po' più impegnativo, dare ispirazione a qualcuno. Sagittario, ecco l'EMA, il matto, per te. Vai, il percorso si trova lì. Per quanta libertà, però, potresti sentire di avere per i prossimi giorni, cerca di non fare tutte quelle cose che non vorresti fare. O meglio, hai presente quando magari ti ritrovi a fare qualcosa e sai già che il giorno dopo ti risveglierai e dirai ma perché l'ho fatto e avrai questo senso di vuoto perché sei andato contro la tua etica? Perfetto, procedi lungo il tuo percorso, ma rimani fedele a te stesso. Leone, per te in arrivo il 9 di bastoni. È una carta un po' particolare, perché è la carta prima del 10 di bastoni, che è l'arcano della settimana, e ti indica che, nonostante la stanchezza che puoi provare e nonostante qualche risultato può tardare ad arrivare, non devi perderti per strada. Sei quasi alla fine del tuo percorso, stringi denti e vai avanti. Non è il momento di metterti sul divano a vedere la televisione. Gemelli, il papa. Forse sotto sotto hai bisogno di una figura autorevole, in grado di darti uno schiaffone e mandarti avanti? Beh, mio caro gemelli, questa settimana devi renderti conto che forse quello che sai o gli strumenti a disposizione non sono abbastanza. Quindi cerca l'aiuto di qualcuno che ti possa dare il giusto consiglio nel giusto modo. Pesci, sei di denari, mani al portafoglio, generosità. Il che può indicare offri qualcosa, fai beneficenza, non trattenere a livello materiale tutto per te, ma cerca di capire come aiutare e raggiungere l'altro. Forse un equilibrio tra dare e ricevere è la chiave della tua armonia per i prossimi giorni. Scorpione, sette di coppe. Fai molta attenzione, perché potresti fantasticare un po' troppo e potresti costruirti dei castelli in aria che in questo momento non ti servono, perché si dimostreranno per quello che sono, ovvero delle illusioni. Se stai fantasticando su qualcosa, cerca di vedere, capire, valutare se quella cosa è supportata da dati oggettivi, altrimenti lascia perdere. È un castello in aria, ma non fa per te. Capricorno, il carro, viaggia, parti, vai, muoviti, oppure determinazione, coraggio e vittoria. Ad ogni modo non è il momento di prendere tempo e non è il momento di prendere le distanze. Mettiti in gioco, agisci e fallo soprattutto in modo assoluto, quindi non ti risparmiare. Mi raccomando, Capricorno, questo può essere usato, ampliando il concetto, anche a tutte le dinamiche che possono costellare la tua settimana. Se per esempio vuoi dire quella cosa al tuo amico o alla tua amica e inizi a parlare, finisci di parlare. Non rimanere generico, perché magari non vuoi fare male a una persona oppure non vuoi spingere il discorso in qualcosa di particolarmente negativo. O parli o non parli, però il carro ti dice parla. Cancro, tre di spade. Dolore, tristezza e nostalgia pervaderanno i prossimi giorni, già sei un segno abbastanza emotivo, quindi quello che ti viene richiesto è cercare di invece leccarti le ferite e di capire che cosa te la provocate. A proposito cancro, per tutti i cancretti che devono mettere in pratica qualcosa ma quella cosa o è poco definita oppure sappiamo che potrebbe creare un po' di scompiglio a un equilibrio sociale preesistente, fatelo. A volte la disarmonia è il primo passo per raggiungere una nuova armonia, molto più affine a ciò che siete. Acquario, la stella, va bene, goditi il posto dove sei nel momento in cui ci sei. Magari potresti ritrovarti all'interno di una situazione o di una dinamica, qua parlo proprio di luogo in cui sei un pochettino stranita o stranito perché non te l'aspettavi oppure non ti senti a tuo agio. Cerca di scoprire i lati positivi di una situazione, di una location, di un posto che magari non ne presenta. Se invece ti senti in questo momento, per i prossimi giorni, proprio nel tuo posto dove dovresti essere, goditelo fino in fondo. Permetti a questa energia di inebriarti e di ricaricarti perché ti sarà utile poi per il futuro avvenire. Mi raccomando, speranza per i nuovi progetti ma soprattutto centratura, ovvero puoi continuare a investire. Ecco qua, 12 segni, 12 arcani, con i vari consigli. Mi raccomando, lascia un like e condividi questo video e soprattutto a proposito di cose molto molto importanti, stanno per esaurirsi i posti per i corsi sui tarocchi a Roma e Milano, quindi se vuoi partecipare inizia ad iscriverti perché nonostante siamo abbondantemente in anticipo, quest'anno i posti sono andati via un pochettino prima, ok? Va bene che è agosto, va bene la vacanza, ma se volevi iscriverti buttaci un occhio. Ora ti lascio, ti mando un grande abbraccio e ci vediamo con il tiraggio domani a supporto della carta della settimana, che era il 10 di bastoni, e che ci invitava a riflettere su come poter gestire meglio i nostri impegni. E sarà un tiraggio fichissimo perché la gestione del tempo è per me una cosa iperimportante. Un grande abbraccio e ci sentiamo domani, ciao!